In occasione di questo diciottesimo convegno a Anidis ho avuto il piacere di organizzare insieme alle colleghe Ilaria Venanzi e Antonella D'Alessandro, sempre dell'Università di Perugia, una sessione dedicata al tema del monitoraggio delle costruzioni per la valutazione rapida delle condizioni post terremoto e quindi per consentire di avere uno strumento utile per intervenire rapidamente con le azioni di messa in sicurezza o per valutare in maniera appropriata come investire le risorse per la ricostruzione e le riparazioni a seguito di un evento sismico. La sessione ha avuto un certo successo perché sono stati presentati 16 lavori, questi lavori hanno consentito di conoscere un po' gli avanzamenti sull'argomento e quindi qual è lo stato dell'arte e anche di portare a conoscenza della comunità scientifica e anche della comunità professionale, dei professionisti, sull'esistenza di alcune tecniche, alcune metodologie che possono avere un utilizzo molto efficace in molti dei problemi che ci troviamo a fronteggiare per quanto riguarda il problema sismico. Faccio alcuni esempi. Nella sessione sono stati presentati alcuni lavori relativi allo sviluppo di sensoristica innovativa o a basso costo per il monitoraggio sismico delle strutture. Si è parlato quindi di novità nel campo dei sensori MEMS, dei sensori microelettronici, quindi accelerometri a basso costo, così come di sensori più innovativi come mattoni di laterizio in grado di misurare le deformazioni all'interno di una struttura in muratura. Altri lavori si sono invece occupati di sviluppare tecniche di identificazione del danneggiamento a seguito di un terremoto. Qui un aspetto che mi sembra importante sottolineare è quello dello sviluppo delle metodologie dinamiche, di monitoraggio dinamico, che si basano sull'identificazione modale delle strutture che può essere eseguita in continuo sfruttando i dati provenienti da un sistema di monitoraggio permanente e attraverso opportune tecniche e matematiche è anche possibile individuare anomalie nel comportamento della struttura e cercare di capire in quali parti della struttura queste anomalie si sono verificate. Questi metodi dinamici stanno conoscendo un certo sviluppo e sono ormai anche grazie allo sviluppo di applicativi software e alla disponibilità di sensoristica di elevata efficienza a basso costo sono ormai applicabili direi anche in ambito professionale. Da sottolineare anche l'importanza delle prove dinamiche a scopo diagnostico, quindi non monitoraggio dinamico continuo ma indagini dinamiche eseguite periodicamente su una struttura, ad esempio eseguite al momento della costruzione o al momento in cui viene effettuato un intervento di riparazione o un intervento di rinforzo e poi eseguite di nuovo ad esempio a seguito di un evento sismico. Questo tipo di indagini ad esempio che consentono di stimare le proprietà modali della struttura e quindi di conoscerne meglio il comportamento possono darci informazioni come è stato discusso anche all'interno della sessione speciale su alcuni aspetti importantissimi per quanto riguarda la risposta sismica di queste strutture tra cui cito il problema della deformabilità nel proprio piano degli orizzontamenti. Ovviamente poi ci danno informazioni sui periodi di vibrazione che sono importantissimi nella definizione dei modelli di calcolo e quindi la valutazione dell'input sismico e pertanto danno al progettista un'informazione molto rilevante e sperimentata sulla struttura di cui si deve fare una valutazione sulla quale si deve progettare un intervento di rinforzo o di riparazione.